Ufficialmente aperto a Carbis Bay in Corno Valle al G7, rilancio delle eleanze commerciali, vaccini, global tax e ambiente sul tavolo dei potenti della terra. Un attentato alla ripartenza, Alice si dissocia dallo sciopero indetto nei porti Liguri dal 15 al 19 giugno. Per il vicepresidente di Caterina è inopportuno e anacronistico. Nel primo trimestre cresce la disoccupazione con 900.000 posti in meno. Il tasso sale a 10,4%, mezzo punto in più rispetto al quarto trimestre 2020. Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia e provincia di Trento. Da lunedì in zona bianca. RT stabile a 0,68. L'incidenza del virus scende ancora. Attese nuove indicazioni dal CTS dopo la morte della diciottenne vaccinata in Liguria con AstraZeneca. Già in sette regioni, questo siero è Johnson & Johnson, solo agli over 60.